Si abbassano le temperature e sulle alture spezzine arriva la prima spolverata di neve. La maggior parte delle zone imbiancate si concentrano in alta Valdivara e per garantire la mobilità del territorio scatta il protocollo neve della provincia della Spezia che prevede l'utilizzo di spazzaneve e meggi spargisale. Stando a quanto riferito dall'ente sono interessate le località di Comuneglie e Valletti nella zona del Passo del Bocco lungo la strada provinciale 49. Inoltre i mezzi spazzaneve sono stati impegnati su Passo Mola e nelle aree di Carro, Ziona, Ornetto, Maissana e Passorastrello. Ulteriore attività si è svolta sul Passo del Bracco. Le unità del servizio tecnico sono poi intervenute in coordinamento con il Comune di Levanto. Capitolo montagna, può partire finalmente la stagione sciistica. A Zumzeri e Cerretolaghi impianti aperti da sabato 21 gennaio. Circa 50 cm di neve hanno imbiancato le piste di Zumzeri. Quanto basta per poter finalmente aprire la stagione invernale 2023, con l'augurio di lasciarsi alle spalle mesi difficili. Finalmente è fioccata la neve e le temperature sono tornate alle medie stagionali.